Eccoci con Leo, questa volta parliamo di calcio, dimentichiamo la questione caro biglietti, io segnalerò il video, fatelo girare, l'Inter ascolta sempre, insomma, vediamo un attimino, in effetti, sono un po' cari. Senti, io ho fatto un gioco con un ragazzo, con Seba, poi lo faremo qua in video, che è molto semplice, abbiamo fatto delle griglie di partenza partendo dai punti fatti l'anno scorso e abbiamo detto in base a quello che hai perso come allenatore, come calciatori, come tante cose, quanti punti puoi fare più o meno? Non so, prima Seba, che poi sarà ospite, aveva detto, beh, l'Inter secondo me come mercato perde, senza conto perde 10 punti, col mercato, secondo lui l'ha fatto bene nel Cooper a 4, quindi l'Inter dovrebbe fare 6 punti meno, ne ha fatti 91, potrebbe farne 85. Chi arriva a 85? Cioè, questo era il gioco, no? Tu cosa ne pensi del calciomercato e se credi che queste big d'Europa, cioè il PSG, il Chelsea, addirittura lo United, gente che ha fatto, ma guarda anche l'Atletico, gente che ha fatto mercati da tipo Lukaku, Saúl, cioè è aumentata la forbice, che lo dicevamo io e te, questa forbice dell'Europa è aumentata? No, perché poi ci fanno pagare i biglietti, no? Come dici tu, il file play, c'è, è una presa tra i fondelli, no? No, 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 sì, sì, ormai sì. Quello ormai è andato di fatto, il nostro sindaco Ceferin, che lo faranno lui adesso sindaco a Milano. Certo, ormai è il capo di tutto. Esatto. Mercato, io farei un applauso a Marotta, perché con 3 euro ha fatto un mercato della Madonna. Sì, ha fatto un grande... Il meglio che c'era in giro l'ha preso, in tempi brevissimi, perché... No, no, no. Come dice che mi avevano avvisato, comunque anche Inzaghi l'ha detto chiaramente, mi è rimasto spiazzato da... Ma va, la so io la storia, ma va, poi ti faccio sentire gli audio. Lukaku è andato da Inzaghi e gli ha detto... Mister... Sì, 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 non è andato da Marotta, ma da lui, vabbè, poi un giorno la racconterò. E cosa ne pensi di Adani, che ha detto, beh, in effetti mi corrego sull'Inter, ha sparato una minchiata. Adani è un po' come il vento, eh, tira, vado e vado a vedere il calco comodo. Un giorno dice una cosa, un giorno dice l'altra, un giorno se la rimangia, come anche Cassano. Una volta dice quello, un calquerno scarso, adesso andato là, voglio vedere cosa dice. esatto esatto Vieri invece dice che l'Inter è favorita che gli piace molto lui l'anno scorso difendeva sia Lukaku che Conte cosa ne pensi tu? scusa mi ricordo chi la difesa della Juve della nazionale che ormai si è scretolata per l'età adesso la difesa più forte l'Italia ce l'abbiamo noi lo diceva Balzaretti tra i pari che lo sai bene come è certo quella è una cosa che tu dici sempre io in parte e che oggi è uscita all'ottima i tre lì tanta roba e tanta salute centrocampo secondo me abbiamo tante varietà però se si fa male uno c'è una distorsione di De Vrij un raffreddore di Spina eh di Fellenzi dice Ranocchia però vabbè centrocampo invece siamo tanti centrocampo abbiamo tante scelte poi voglio vedere cioè io prevedio che Sensi sia un acquisto in più non l'abbiamo mai avuto in Draghi si è fossilizzata con un vestito avevamo tutti dovuto tenere a tutti i costi si 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 voleva anche la Lazio ha posto il vetro per la vendita mi auguro che il numero 5 non veda più il campo però è l'unico che ha centimetri come l'hai visto invece Vidal dal vivo Vidal l'ho visto è entrato comunque ha fatto ha fatto la differenza che poi magari sia una rondine non fa primavera però è entrato lui è cambiato qualcosa soprattutto le prossime tre farà farà meno bene però quando è entrato l'ho fatto bene Geko mi hanno detto che impressione dal vivo Geko è uno che fa girare la squadra non è uno freddo sotto porta però fa girare gioca fa le sponde lo vedi? cioè fa degli stop che Big Ron non faceva con i piedi certo la tecnica è totalmente diversa io ho paura del Milan andando sull'avversario io ho paura del Milan cosa ne pensi? che mercato hanno fatto? il Milan in attacco cioè dobbiamo pregare che i due musei di ricerca non si fanno male perché poi gioca Ibero gioca Giroud in difesa non li vedo bene a parte Kier adesso un pochino è giudicabile a parte Kier in difesa non mi sembra dei fenomeni beh aspetta Leo perché ieri io leggevo in una live tutti i loro nomi e ho letto Tomori Romagnoli Calabria Conti Kier quello nuovo giallo baldo non so come si chiama poi nel senso che numericamente sono ah poi c'è Gabbia poi c'è Calolu c'è c'è anche Maldini centrocampo mettiamo anche i punti Maldini è in attacco c'è Conti che non ha mai giocato cioè tu dici che devono andarlo via beh comunque non mi sembrano Calabria e Teo Hernandez ti piacciono se giocassi a 4 beh Teo Hernandez beh buon giocatore per l'amore di Dio si butta e Calabria per l'ossione Calabria per fare il capitano e in mezzo al campo questo Tonali che parte con una punizione di broccia Tonali ha fatto un gol vediamo quest'anno o fa il salto o salta l'uso a treno certo c'era passato anche l'ingaggio per stare lì se no non lo prendeva nessuno poi il presidente che si tanta roba il presidente però vuole troppo poi voglio dire Cialanogu secondo me abbia fatto un affare a noi è fortissimo vero però perché Verona era in difficoltà perché l'hanno già vabbè poi non farà tutte le partite però voglio dire quando gli passi la palla la soppa uno che soppa la palla per noi è oro ma lo dicevamo io e te l'anno scorso finalmente è arrivata gente con i piedi speriamo che vi dà le sensi ci siano ti dico un'ultima cosa sull'attacco io seguo Sebastiano Esposito spesso ci vediamo anche mi sa che tra tutti a parte Satriano poi te ne parlo a parte perché ho ricevuto dei messaggi stamattina su Satriano io sono in contatto con alcuni dei suoi manager che sono gentilissimi gente alla mano mi raccontano tutto mi dicono ciò che posso dire ciò che non posso dire Satriano darà la vita in questi 4-5 mesi perché vuole rimanere anche a gennaio e lui vuole giocare ha fame vuole giocare c'ha grinta la faccia da guerra Inzaghi piace tantissimo sappi che lo dicevo in esclusiva ho avuto delle esclusive che non io non credevo non voleva Geco Inzaghi non è che non gli piace però avrebbe scelto altro e non diciamo cose false gli piace ovviamente davanti alle telecamere dice così in realtà qualcuno vocifera che Geco potrebbe essere sostituito già a gennaio se Satriano se Sanchez se magari andiamo su un altro attaccante cioè il comparto dell'attacco si decide a gennaio e non adesso e poi c'è Esposito che mi hanno detto siccome poi tra giovani si sentono una pinamonti questo Salcedo Colidio eccetera eccetera praticamente sembra che Esposito giochi nel suo ruolo ideale tra pulizioni rigori a cucchiare sono secondi e lui è praticamente il trascinatore il leader fuori classe beh lui si vedeva che era forte però no si ma è uno che ha fame come anche Satriano come Cutrone del Milan io non so perché l'ha venduto era uno che aveva fame mangiava l'erba si no infatti infatti beh ma Cutrone per tenere le auli che mangia il zucchero filato sulla fascia lì e CR7 che dice lasciare la Juve per tornare a Manchester e la Mignano come qualcuno ha osato scrivere è stato un flop beh due scudenti gli ha portato un sacco di debiti e zero champion non è corrompio è quello non l'ho preso per quello e non l'hanno vinta in realtà si sei d'accordo con la visione di Il Giornale che dice che Massimiliano si sarebbe arrabbiato tanto avrebbe detto che non si aspettava cioè i Cardi forse a gennaio ma non ci hanno mai puntato tanto che Pjanic avrebbero dovuto pagare metà stipendio loro e metà Barcellona o lui rinuncerà qualcosa il Bosniaco non ha rinunciato loro non hanno pagato metà e quindi non si è fatto nulla dice che Khin e Locatelli sono troppo poco e che c'ha già i coglioni girati quindi aspetta diciamo che se Conte si lamenta è un rompicoglioni se Allegri per la prima volta ha una squadra sulla quale lavorare duro con quelli che ha è già incazzato giusto a parte tutti comodi con 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 la squadra eh ti ricordi Allegri con il centrocampo Pogba Vidal Pir no? è comodo lì eh è vero o no? eh no perché poi Conte è un rompicoglioni capito quando chiedeva quando ero in nazionale con come si chiamava lì? Giacchialini andava a quella gara della punta che andava in Cina lì Pellè Dermann Pellè cioè con Pellè ha fatto quello che ha fatto la gente così cioè centrocampo no esatto ma poi ma poi Conte non chiedeva Icardi o Pianici chiedeva i suoi quindi in difficoltà la Juve ha giocato proprio male eh ma anche a livello di mercato perché tutti cioè Locatelli anche lì tre o due anni solo loro lo fanno poi devono pagare sì è vero anche Chiesa però tra due anni tutti pagherò anche il Milan tutti in prestito 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 però la linea totale arriva prima o poi sì noi invece abbiamo fatto Danfri's Cash beh anche noi dobbiamo pagare Danfri scusa 12 milioni e mezzo non ci compri anche uno della primavera no no è vero noi pagheremo l'anno prossimo Correa il Cagliari non ha accettato questo pagamento tra l'altro si è fatto male quindi se no è rimasto lì tra l'altro è rimasto Vlaovic è rimasto Belotti è rimasto Insigne è rimasto Belotti è rimasto Vlaovic tanti non si sono mossi ma poi c'è una notizia che mi fa non lo so io devo capire perché lo faccio vedere qui dicono Inter PSG ancora su Lautaro e lui dopo Mbappé cioè non abbiamo ieri te lo giuro ieri ti dico la fonte Corriega della Sera c'è anche il nome di Lautaro sul tacchino del PSG quindi è accetto sul tacchino esatto nel senso che sta appena rinnovato appena fida il mercato rompono già i coglioni esatto tra l'altro qui davanti a te al telefono hai un pirla che disse che io sappia fonte altissima PSG Mbappé quest'anno non va via neanche se arrivano super offerta poi ti ricordi che ho detto se dovessi giocarmi 100 lire dico quello che mi hanno detto a me hanno detto che Mbappé non va via ti ricordi? sì quando poi mi hanno detto Donnarumma farà la panca Ramos si taglia la barra esatto io sapevo tutto sapevo anche è una polveriera comunque come? è una polveriera lì comanda Neymar lì comanda Neymar e ti assicuro e poi c'è stesso Michele Tommessi esatto Neymar e Navas Navas conta un casino che è scarso effettivamente scarso però Donnarumma per adesso non gioca e tra l'altro dopo due partite o non se l'aspettava io lo sapevo questo non vuol dire che non giocherebbe mai come cosa come posso dire una malizia mia che secondo me il fatto di Nandes che è il nostro amico tra virgolette Giulini che ci mette sempre il bastone tra le ruote è uno stronzo esatto che era pure nel Consiglio dell'Inque secondo me il nostro Vito Corleone Marotta mi ha detto a Nangolani io ti pago metà dell'ingaggio ma tu nell'isoletta lì mi ci vai e secondo me gli aveva piazzato in quel posto e è nato in Belgio secondo me ha fatto così secondo quello no secondo quello che dice Nangolani invece no lo so però lui dice per la prima volta siccome il Cagliari doveva pagarlo lui non ha voluto una ingolance è comodo questo per gli altri certo certo quindi questa è la verità dice il Cagliari mi ha sempre avuto gratis pagava l'Inter quest'anno che doveva tirare fuori lo stipendio non mi ha voluto e lui è andato lì nella Caronia esatto no veramente però Nandes non è andato né all'Everton né alla Roma è rimasto lì pur dicendo che al Cagliari aveva dato tutto non mi sembra che abbia abbinato col Milan vuol dire che è ancora caldo per noi è quello io me lo auguro io lo aprivo lì non è male poi hanno preso anche Casares il Cagliari ha preso ha preso Casares ha preso Keita sì io ti ringrazio Leo vuoi dire qualcosa tu insomma abbiamo fatto un video sui biglietti uno sull'Inter hai qualcosa da dire che ti saluto a tutti sempre amola forza Inter e essere un po' più positivi certo un mese fa erano tutti eh sembrava che dovevano andare a giocare con l'intensa serie invece abbiamo una cosa più che competitiva secondo me no no ma io guarda io ho differenziato le cose ho detto secondo me ci sarà un Inter che non esisterà più e nei fatti quando togli Pintus con Teoriali e Achimi e lei gli acquisti non c'è più quell'Inter lì però io subito ho detto che Inzaghi è la scelta migliore molto più di Allegri che a un certo punto Marotta voleva Allegri confermato da noi da Musmara confermato tra l'altro era la prima scelta quindi sono contentissimo invece di Inzaghi che poi guarda caso quando Allegri ha detto no la mattina gli aveva dato un milione in più quel gioco di Allegri lì è stato un milione in più per prendere Inzaghi che però è venuto perché Marotta gli aveva parlato onestamente dopodiché io ero contentissimo era il miglior profilo da prendere anche per il rapporto che ha mi ha raccontato un mio caro amico che è stato con Barella l'altro giorno a pranzo tre ore che mi diceva l'ho già detto che c'è un clima molto disteso lui è molto tranquilli i giocatori avevano non paura di sbagliare però Conte è uno che ti rompe il cazzo ti telecomanda e da un lato ti dà dall'altro ti mette molta ansia sono più liberi in campo c'è un clima anche più rilassato alla pinettina non so che Conte sai che è un generale è un comandante esatto esatto per dire ho raccontato questa c'è Skriniar raccontava Barella che aveva la bambina da prendere all'asilo la moglie era in Slovenia ha detto mister io però non ho nessuno non è che è e lui ha detto vai a prendere tua figlia non preoccuparti che sei già abbastanza allenato e responsabile e sai queste cose per i calciatori intelligenti ne approfittano eh sì poi dopo ti dà nel doppio eh sì come quando Schneider ti ricordi Mourinho gli ha detto vai a Ibiza e lui è tornato esatto come mai che devo fare la doppietta vanno in Brasile ti ricordi gli ha detto se fai il gol vanno in Brasile cazzo gli ha fatti due ti ricordi vieni a tutti vanno in doppietta per un terzino e non è da tutti i giorni spettacolare spettacolare senti chiudiamo su Mourinho ci punzecchia sempre perché no aspetta guarda ruba un po' no ma la domanda è più precisa oggi ci punzecchia sempre perché siamo i più forti oggettivamente per lui e io a volte credo che noi siamo tra i più forti o ci punzecchia a prescindere ci punzecchia sai che siamo più forti ci punzecchia perché il suo è il suo stato se così lui deve creare antipatia intorno solo che quando ce l'hai la tua parte lo ami quando ce l'hai contro un po' ti dà fastidio però non gli si può dire niente a quell'uomo non gli si può dire niente sono curioso sta facendo un buon lavoro ci hanno un buon attacco per me lui ce l'ha con due persone con Zhang che non l'ha ripreso e con Conte che è stato scelto al posto suo e che spesso e che anche al Chelsea lo ha massacrato 4-0 ti ricordi quelle esaltanze che lui poi disse che esultava come uno scimpanzee che ci vuole rispetto però sarebbe stato bello insomma vedere anche Conte Murigno insomma sarebbe stato un interroma incendiaria però anche in Zaghi comunque per lui è quasi un derby poi è uno che partecipava a me ci serve uno che strilla dal campo ah beh Zaghi è stato in Zaghi e quando fa le interviste post partita scrive per parlare e con questa come sempre grandissimo scrive per parlare poi c'è la pappagorgia grazie Leo se non sforiamo a presto a forza Interam ciao ciao Leo ciao ciao metto giù eh ciao ciao